Bentrovati nel mio canale, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla serie turca Endless Love. Non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti i prossimi video e attivare la campanella per essere sempre aggiornata. Le rivelazioni di Mujeygan e l'arresto di Galip porteranno a un reset completo delle dinamiche familiari e delle ambizioni personali dei protagonisti. Emir dovrà affrontare nuove sfide e prendere decisioni che determineranno il futuro della famiglia Cosquoglu, e di se stesso. La seconda stagione di Endless Love promette dunque colpi di scena mozzafiato e una trama avvincente che terrà gli spettatori incollati allo schermo. Prepariamoci a scoprire quali altre verità verranno a galla, e come i personaggi reagiranno alle nuove circostanze. Nella seconda stagione di Endless Love, la trama si infittisce con rivelazioni sconvolgenti che cambieranno per sempre la vita dei protagonisti. Uno degli episodi più intensi vede il risveglio di Mujeygan dal coma, con una verità che lascerà tutti senza parole. La rivelazione di Mujeygan. Dopo 20 anni, Mujeygan si risveglia dal coma e rivela a Emir un segreto che ha custodito per tre decenni. Fino a quel momento, tutti hanno sempre creduto che Mujeygan avesse tentato di togliersi la vita gettandosi dal terrazzo. Tuttavia, la verità è ben diversa e Mujeygan sente finalmente il bisogno di svelarla per il bene di tutti. A spingermi da quel terrazzo è stato Galip, confessa Mujeygan a Emir. La sua rivelazione sconvolge profondamente Emir, cambiando il corso della storia e delle loro vite. Le conseguenze per la famiglia Kosquoglu. Il peso della confessione di Mujeygan grava pesantemente sulla famiglia Kosquoglu, che si trova ad affrontare un momento cruciale e doloroso. Galip, che per anni è stato visto come un pilastro della famiglia, viene arrestato e finisce in prigione con diverse accuse gravi a suo carico. Galip è accusato di aver tentato di uccidere Leila, un'accusa che non solo mina la sua reputazione, ma mette in pericolo la sua stessa vita. Traffico e gestione illecita di rifiuti radioattivi. A queste accuse si aggiunge la scoperta di un traffico e gestione illecita di rifiuti radioattivi, che peggiora ulteriormente la situazione legale e morale di Galip. Vuoi conoscere di più sugli episodi turchi? Continua a seguire il nostro canale per aggiornamenti e approfondimenti sulle tue sop preferite. Grazie per la visione!